Questo Halloween, cosa ti aspetti? Dolcetto o scherzetto? Dolcetto o scherzetto? E cos'è più divertente? Scherzetto o dolcetto? Dolcetto o scherzetto? Dolcetto, scherzetto! E tu che cosa preferisci ad Halloween? Scherzetto, dolcetto! Passa una giornata da brivido insieme a tutti i tuoi amici con la... Maratona Dolcetto o Scherzetto? Martedì 31 ottobre dalle 18, solo su Nick Junior!